La Procura Generale di Catanzaro ha chiesto quattro condanne nel processo di secondo grado che ruota attorno all'autobomba di Limbadi nel Vibonese, costata la vita il 9 ottobre 2018 alle biologo Matteo Vinci. La conferma della condanna all'ergastolo è stata chiesta per Rosaria Mancuso, 66 anni di Limbadi e per il genero Vito Barbara, 30 anni, ritenuti mandanti dell'attentato. Per il marito della Mancuso, Domenico Di Grillo, di 74 anni, la Procura Generale ha chiesto la condanna a 22 anni di reclusione, 10 anni, in primo grado, mentre per Lucia Di Grillo, 32 anni, figlia di Rosaria Mancuso e Domenico Di Grillo, sono stati chiesti 14 anni di reclusione, in primo grado, è stata condannata a 3 anni e 6 mesi. Tra le accuse, oltre all'attentato, costato la vita a Matteo Vinci ed il ferimento del padre Francesco Vinci, anche la detenzione illegale di armi e una tentata estorsione sui terreni contessi dai Mancuso di Grillo e la famiglia Vinci Scarpulla, quest'ultima parte civile nel processo.